Ciao a tutti e bentornati su Alixas Bros Channel, oggi torniamo a parlare di novità, sempre qui sul canale. Oggi parliamo di Sky, Sky infatti come sappiamo ha da un po' di tempo rilasciato ed è in uso tuttora il suo servizio di streaming di parte di canali e una parte dei suoi film, prodotti e documentari. Una parte perché di canali ce ne sono non tanti su 200 canali di Sky, sono disponibili su questo servizio di streaming 20-30 canali. Stiamo parlando di Sky Go che è incluso in ogni abbonato al servizio con parabola. La novità di Sky sarà un progetto che verrà chiamato ed è chiamato tuttora River. Questo progetto di Sky, chiamato River, direttamente di Sky Italia, sarà un servizio che secondo Wired dovrà costare circa 9€ al film, l'effetto entry level, poi ci saranno offerte da un costo maggiore, ma permetterà di vedere tutta la produzione di Sky direttamente in streaming, quindi sul web, da tablet, pc, smartphone, qualsiasi dispositivo che abbia l'accesso a internet. Secondo le prime indiscrezioni dovrebbe esserci un catalogo di 900 film e 8 canali, quindi sarà inizialmente un servizio che partirà un po' come Sky Go, quindi non avremo inizialmente tutti i canali. Man mano Sky andrà a inserire tutti i canali anche in questo servizio. La cosa interessante sarà proprio il fatto che ora Sky Go funziona soltanto per gli abbonati a Sky, in particolare gli abbonati Sky HD. Questo servizio sarà acquistabile da tutti, non solo dagli abbonati Sky, ma da qualsiasi persona e avrà un prezzo che non è il prezzo dell'abbonamento tramite parabola, ma è un prezzo che partirà da 9€, quindi una cifra davvero abbordabile. Questo permetterà di limitare la convergenza e di limitare le differenze che troviamo ora tra Mediaset Premium e Sky, Mediaset che già permette e offre questo sistema a pay per view. Andremo a vedere se questa novità arriverà in Italia con Sky. E beh, se questa notizia ti è interessata ti ricordo di mettere un bel mi piace per supportare il mio lavoro che comunque è un qualche cosa di impegnativo e mi porta via parte del giorno. Lo faccio così perché mi piace quello che faccio. Bene, quindi iscriviti, metti un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video sempre qui su Alexan's Bros Channel, sempre qui con Alexan's Bros. Ciao a tutti! Ciao a tutti!